E' bravo Tognetti, questo Mori, tanta volta è un gioco titolare sui video? No, ma di domenica, non di una prima. Domenica scorsa. Ah, di 15 e 34, dalle 5 alle scrittate, aspettavo. Ah, per poi? Che c'ha dato? Ah, non so, avevo tutti... Qui c'è 35 e 34. Oh, cavolo! Che si fa, come l'Italia? Che si fa? Che si fa? Ecco qua. Vai, 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 vai! ma che fai? non potete neanche ragazzi 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 non potete neanche ragazzi